Dopo un'occupazione come geometra, si dedica allo spettacolo come impresario dei fratelli Mario e Pippo Santonastaso, con i quali ha girato tutta Italia. Debutta come attore negli anni Ottanta dopo una lunga presenza all'interno del teatro Metastasio. Lavora con Alessandro Benvenuti, Francesco Nuti, Attina Cenci, Ornella Muti, Renato Pozzetto, Alessandro Haber, Leonardo Pieraccioni, Massimo Ceccherini e Alessandro Paci. È uno dei soci fondatori della Fondazione dei Maledetti Toscani, oltre che allenatore dell'omonima squadra di calcio.